Il mercato Albinelli è situato in centro storico a Modena, di fianco alla Ghirlandina, simbolo della città. È un mercato storico in quanto è stato inaugurato il 28 ottobre 1931 ed è un stile Liberty molto bello e molto accogliente. Il mercato Albinelli offre sicuramente il meglio dei prodotti locali e gli operatori sono ben lieti di offrirveli dando anche quel rapporto umano che in altre situazioni non si trova. Noi siamo tradizione, la mattina siamo aperti come tutti i banchi ma siamo anche qualcosa in più, siamo innovazione. È da qualche mese che il mercato è aperto anche di sera per poter andare incontro alle esigenze dei giovani con aperitivi e un mangiare sicuramente innovativo, stando naturalmente seduti, comodi ma con le eccellenze sempre del territorio. La sera offriamo eventi, concerti, naturalmente i giovani vengono per gli aperitivi e comodamente seduti possono gustare le nostre specialità. Naturalmente l'innovazione ha bisogno di un sostegno economico e per questo la banca è stata determinante per la realizzazione del progetto e la valorizzazione del territorio. Il rilancio del mercato Albinelli è fondamentale per tutto il centro storico, in quanto noi siamo il cuore della città e tutti ne possono beneficiare.